L'abbiamo cambiato sì nel primo tempo abbiamo fatto un altro modulo anche per far provare cose diverse e poi abbiamo dei ragazzi che non si allenano con noi quindi comunque sia per l'adattamento ci sta anche per cercare di trovare delle caratteristiche opportune alle partite poi tra l'altro si andò a giocare con uno schieramento che poteva venire ideale poi hanno cambiato anche loro quindi sono passate 4 nel secondo tempo siamo ritornati al nostro modulo e comunque alla fine siamo riusciti credo in maniera meritata a vincere questa partita sono sono contento questi ragazzi tutte le partite le hanno perse ma non meritevamo assolutamente di perdere neanche una tra l'altro domenica è stata una beffa con la roma dove vincevamo fino al 44 esimo e si è stati rimontati con due gol gli ultimi minuti però questa squadra ancora una volta sta dicendo che è competitiva si gioca ogni partita ogni partita fa bene questa è un orgoglio poi ovvio che siamo contenti per la vittoria perché questi ragazzi ce la meritavano